La maggioranza in Consiglio regionale ha bocciato per la seconda volta il nostro emendamento che riguarda i servizi e gli appalti scolastici. Insieme al collega Blasioli abbiamo dapprima presentato una risoluzione qualche mese fa in Commissione, approvata da tutte le componenti presenti in Commissione, quindi anche dalla maggioranza, che sosteneva con forza questo aiuto che prevede un bonus di 500 euro per ogni lavoratore e parliamo di circa 2.000 lavoratori in tutto l'Abruzzo e poi il 1 dicembre lo abbiamo riportato in Consiglio regionale con una copertura specifica, tant'è che la prima Commissione bilancio ha dato il parere favorevole, ma poi in terza Commissione, nonostante l'insistenza da parte dei sindacati, dei portatori di interesse, di queste 2.000 persone fragili che soffrono quotidianamente questa situazione, la maggioranza ha bocciato l'emendamento. Adesso, in sede di bilancio, noi ripresenteremo questo emendamento, tutti i consiglieri di opposizione e faremo una grande battaglia, anche perché riteniamo assolutamente giusto contribuire alle sofferenze delle famiglie abruzzesi e non dare milioni di euro al Napoli Calcio.